Radio Padova, la radio del Veneto. Dobbiamo salutare un amico che ci sta ascoltando dall'Austria, si chiama Peter. Diciamo anche il cognome, dai, Peter, aspetta, Peter Pan, no, Petzner, Peter Petzner. Ciao Peter. È un radio amatore, ha legato in questa sua mail, una cosa carina, ed è il suo scanner, perché lui ascolta la polizia austriaca e poi, tra una frequenza e l'altra, in Auschwitz. Ascolta, ascolta anche il radio Padova. Non è vero, non è vero, eh, non è assolutamente. Caro Peter, no, devi dirgli qualcosa in tedesco, das ist Radio Padova, das ist Radio Padova. E' austriaco, digli qualcosa in austriaco, scusa. Das ist Radio Padova. Ecco, perfetto. La radio del Veneto. Veneto. Scrivi, scrivi, ripetelo. Sì, smettiamolo con questa cosa. Cantiamogli la. Scusaci, Peter. Noin, 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 si, plus, balloons, no. Nena, Nena, potrei dirgli, oppure potrei dirgli, da, da, da. Isch, liptiknik, du liptiknik. E' vero, è vero, è vero, anche quella. Ma che figura. Grazie, Peter.